Il sopralluogo nelle miniere di Sosenatos con il gota della ricerca mondiale e che segnale è in vista dell'Istant Telescope? È un segnale indispensabile ma è ancora più importante avere l'opportunità di poter parlare direttamente stamattina a tutta la delegazione, spiegargli perché è importante che questa infrastruttura venga ospitata nel nostro territorio, non soltanto per le sue caratteristiche uniche, scientifiche, ma anche perché la regione è pronta a fare la propria parte dal punto di vista delle infrastrutture che devono ospitare una comunità di scienziati. È pronta in termini di strade, è pronta in termini di aeroporti, è pronta in termini di scuole internazionali. La Sardegna vuole iniziare il suo riscatto, la sua apertura al mondo proprio a partire da Sosenatos. L'impegno finanziario della regione su questo frangente si può quantificare? Sì, la regione ha stanziato in bilancio 350 milioni che sono quello che la regione doveva fare per sostenere l'iniziativa, la parte della regione rispetto all'iniziativa. Quindi noi siamo stati di parola, siamo stati conseguenti, abbiamo stanziato questa posta in bilancio, abbiamo costituito un'unità speciale di progetto che è direttamente sotto la presidenza, che si occuperà di seguire direttamente l'iniziativa e di seguire anche tutte le infrastrutture collaterali per lo sviluppo di questa zona del Nuorese, che mi è particolarmente cara. Al di là della bontà del progetto scientifico, delle caratteristiche del sito di Sosenatos, c'è una carta più umana e emotiva che la regione, quindi la Presidente, giocherà con questi delegati oggi? Io credo che già essendo ospitati in una struttura così unica come Zucologone di Oliena, credo che possano respirare, perché essere qua è differente. Non è semplicemente l'atmosfera o il silenzio che chiaramente possano respirare anche in questi luoghi, ma è anche la vivacità culturale, la voglia di riuscire a mettere a fattor comune tutte le nostre intelligenze, anche mettendo a fattor comune quello che abbiamo costruito non soltanto in Sardegna ma anche all'estero. Ci sono tantissimi sardi con posizioni di assoluto rilievo che stanno sostenendo dall'Italia e dall'estero questa iniziativa. Con loro bisogna fare rete e fare in modo di portarla a casa. Grazie a voi.